Ciao, sono il dottor Aleph Gottis, fisioterapista, e sono qua per presentarti un progetto fantastico indetto dall'Università di Siena per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Questo progetto è una ginnastica posturale specifica per il collo, le spalle, i gomiti e le mani. Sì, proprio perché chi sta a sedere tutto il giorno, chi ha una posizione sedentaria e quindi caratterizzata da delle tensioni che vengono accumulate più o meno sempre negli stessi distretti, collo, spalle, gomiti, mani. Questi tipi di tensioni, man mano che passano gli anni, diventano delle patologie, come il tunnel carpale, come il mal di testa, come i giramenti di testa, come una semplice cervicalgia o una cervicobrachialgia. Quindi con sei puntate dedicate alla possibilità che tu possa allentare queste tensioni, andremo gradualmente a scioglierle insieme con degli esercizi estremamente mirati, efficaci e immersivi, nonché divertenti, perché ci deve essere sempre una leggerezza nel fare queste cose. Arrivando in fondo a queste sedute di ginnastica posturale, che puoi fare comodamente da casa, avrai dei risultati matematicamente provati. Le zone dove uno accumula l'attenzione sono sempre le stesse. Le patologie sono più che studiate e più che accreditate. Quindi l'unica cosa che ci manca è il sapere come poterle scioglierle da soli, a casa e in piena sicurezza, rimanendo precisi su una parola, l'efficacia terapeutica. Alla fine di ogni lezione ti alzerai dalla sedia e ti sentirai veramente con un quoziente di leggerezza presente e continuativo nel tempo. Questi filmati saranno a vostra completa disposizione, proprio per darvi il tempo e la possibilità di andare a lavorare su quelle tensioni che sentirete e che sono caratteristiche di ognuno di noi. Ognuno ha delle tensioni specifiche più a destra, più a sinistra, più dietro, più davanti, nella cervicale superiore, nella cervicale inferiore, più sulla mano destra invece di sulla mano sinistra, o viceversa. È una via di mezzo tra degli esercizi correttivi o detti anche degli esercizi fisioterapici e una ginnastica posturale. La sommatoria di questi due esercizi garantisce una sicurezza clinica anche in caso di problemi e patologie già constatate, come un ernia al disco, una protusione. Saranno estremamente concise, estremamente interessanti e con un tocco di cultura anatomica, proprio per darti più coscienza della postura che puoi avere, sia nella vita quotidiana, sia nel tuo posto di lavoro, ogni giorno. Il prendere in atto quanta tensione abbiamo è il primo punto per poterci lavorare. Ti ripeto, gli esercizi saranno di una facilità fantastica e non vedo l'ora di vederti partecipare e di sapere come stai di volta in volta. Non mi rimane che salutarvi dal vostro dottore Lefkotis. È tutto, a presto.